Un bilancio di previsione, un bilancio che vede tantissimi interventi da parte della città metropolitana su tutti i territori, non solo su Napoli ma su tutti i territori della città metropolitana, quindi anche tutti i comuni che li fanno parte, interventi importanti e quindi è un grande risultato. Un grande risultato che vede la partecipazione straordinaria dal canto mio di tutte le amministrazioni, di tutti i sindaci perché questo bilancio è stato fatto con la partecipazione di tutti i sindaci che sono espressioni delle comunità. La grande azione che sta ponendo in essere la città metropolitana è sul piano strategico, un piano strategico che io faccio il sindaco da parecchi anni, non ho mai visto una partecipazione dove un'amministrazione chiama i locali e tutti i sindaci affinché conosci loro il loro territorio per capire qual opera intervento straordinario a livello strategico potesse mettere in atto affinché possa dare un rilancio al proprio territorio. Quindi veramente sono contento di questo bilancio e a breve con il piano strategico daremo una risposta a tutta la comunità dell'area metropolitana.